Musica, laboratori, cibo e i giochi di una volta. È stato un riscatto, quello vissuto dal quartiere di Sant'Orso Afano con la festa organizzata per domenica 31 ottobre. Abbiamo fatto emergere il grande spirito di socialità, ha commentato l'assessore alle nuove generazioni Barbara Brunori, orgogliosa del successo ottenuto con bella storia Halloween alle Tufine, il programma di iniziative messo in campo dall'amministrazione insieme alle associazioni e all'azione cattolica. Le tante persone, ha spiegato Brunori, sono state una bellissima fotografia che ha certificato la forza e la gioia di questa giornata. Abbiamo voltato pagina rispetto ai terribili fatti del 2020 dimostrando il grande cuore della nostra città. L'aneddoto è stato mettere proprio i valori della socialità, valori come la comunità, lo stare insieme, la solidarietà, perché in questo caso devo dire che la tantissima gente non era solo del quartiere di Sant'Orso ma di tanti altri quartieri, quindi c'è stata proprio anche una volontà di rendere protagonista questo quartiere di cose nuove, di cose belle, di un Halloween a lieto fine. Un altro dettaglio mi piace sottolineare che in queste occasioni nasce, nasce proprio il dialogo tra tutte quelle che è la rete delle associazioni del quartiere, tanto che già da ieri mattina erano in movimento per pensare al Natale. Per noi c'è tanta gratitudine, un progetto che sicuramente è ripetibile anche in altri quartieri. Dunque Assessore, dei momenti di aggregazione e di sano divertimento? Sì, devo dire che è stata davvero una grande e bella giornata, oltre che una bella storia, e questo ci dimostra che davvero quando si mettono insieme, si creano connessioni, si costruiscono collaborazioni e si fanno incontrare più generazioni, davvero si può creare una grande magia. Tanti bambini, ragazzi, giovani, ma anche le intere famiglie che hanno partecipato si sono sentite coinvolte, si sono sentite parte di una comunità e questo crea anche senso di appartenenza, senso di responsabilità e davvero per chi appunto si occupa anche degli aspetti sociali è davvero un lavoro di prevenzione che aiuta a responsabilizzare tutti e a costruire una comunità più coesa. Il fondamentale è stato anche il tavolo di coordinamento delle forze dell'ordine con il commissariato di Fano, i carabinieri e i vigili urbani, con un lungo turno, ha spiegato l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini, dalle 7 del mattino fino alla mezzanotte. Diversi controlli eseguiti e le persone identificate, soprattutto giovani, è stato anche sequestrato del materiale esplosivo. L'assessore ha poi ringraziato il prefetto con il quale ci sono stati dei confronti sull'ordine e la sicurezza pubblica. C'è stata una grande presenza delle forze dell'ordine e della polizia locale, la città se ne è accorta. Sant'Orso si è comportato in un modo veramente molto puntuale, anche perché tutte le attività sono state veramente capillarmente accompagnate anche dalle forze di polizia, in modo adeguato e in modo silenzioso, ma presente, non solo a Sant'Orso ma in tutti i quartieri della città. C'è stato veramente un pattugliamento capillare in tutta la città di Fano, dal centro a tutti i quartieri periferici. Per cui possiamo dire anche grazie comunque ai fanesi che si sono comportati comunque bene.